La questione della realizzazione di un campetto polivalente per la pratica sportiva di numerose discipline tiene ancora a banco a disernia. Questa mattina l'assessore comunale Marco Amendola in compagnia del primo cittadino Luigi Brasiello ha incontrato gli organi di stampa per spiegare l'importanza di questo progetto dal valore sociale e per plagare le polemiche sollevate riguardanti l'abbattimento di alcuni arbusti presenti nell'area dove sorgirà la nuova struttura sportiva. Gli alberi della villa, come spiegato anche dall'assessore Amendola, dovranno essere abbattuti così come segnalato dai vigili del fuoco e della forestale perché sono ritenuti pericolosi. Proprio l'assessore Amendola ha spiegato ai nostri microfoni l'intero percorso della vicenda. Credo però che ci sia stata una distorsione delle informazioni. L'idea di un campetto per bambini, che è un'opera poco impattante, poco invasiva, che praticamente sarà dedicata un'area di veramente molto molto ristretta, per bambini diciamo che vanno dai 10 ai 12 anni, uno spazio in cui possono giocare liberamente in una città che oggi non offre nessun minimo spazio per questa generazione e credo che questo sia un elemento che innalzi sicuramente la qualità della vita. L'amministrazione comunale, dal canto suo, ha voluto specificare il fatto che tutti possono protestare pacificamente, ma con senno di poi. Bisogna conoscere a fondo quali sono le intenzioni del comune prima di dare giudizi affrettati. La struttura polivalente, che sarà destinata prettamente ai bambini, nascerà all'interno della villa proprio perché si tratta di una zona centrale che può essere raggiunta facilmente da tutti. Dobbiamo consentire ai bambini che non sono motorizzati, perché la patente si prende a 18 anni con la maggior età, credo che debbano avere uno spazio fruibile e giocare liberamente, facilmente raggiungibile a piedi. E credo che quel luogo sia il luogo centrale di Senna, più centrale di Senna, che è raggiungibile da tutti.